I giornali in primo piano come sempre ogni mattina alle 7 in diretta sul canale 17 di Stefano TV, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa, occhio ai giornali, partiamo dal santo del giorno, oggi la chiesa cattolica ricorda un santo, qui dobbiamo andare in Spagna, Antonio Maria Claret, il sole sorgerà alle 7 e 38 e tramonterà alle 18 e 12 minuti. Uno sguardo al tempo con il bollettino della protezione civile delle Marche, per oggi cielo nuvoloso, molto nuvoloso in particolare durante le ore centrali e la prima parte del pomeriggio avremo rovesci diffusi sui settori interni e sparsi lungo la fascia costiera, I fenomeni saranno prevalentemente concentrati dalla tarda mattinata alla prima parte del pomeriggio con deboli residui fenomeni sui settori costieri verso sera, localmente, attenzione, le accumulate a fine giornata risulteranno abbondanti, quindi ci sarà in alcune dove i temporali saranno più forti ci sarà anche molta acqua al suolo. Le temperature minime sono in lieve aumento, insomma direi che questa mattina alle 5, perlomeno a 5 e mezzo quando sono uscito di casa erano 20 gradi, insomma sembrava quasi estate. Andiamo a vedere il tempo per domani, domenica 25 ottobre, eccolo qua, cielo sereno poco nuvoloso, temperature invece minime in diminuzione, le massime stazionari avremo 20 moderati lungo la fascia costiera, ma niente pioggia, mentre lunedì 26 ottobre ancora cielo sereno ma con nuvole che andranno a intensificarsi, ma per il resto non avremo precipitazioni. Martedì condizioni di maltempo seguite da un miglioramento. Allora intanto vi dico che stanotte cambia l'orario, quindi a parte che ormai abbiamo tutti i orologi, a parte quelli da parete a casa che sono da regolare, ma per il resto orologi di ultima generazione al polso o cellulari sono tutti sincronizzati, per cui fa tutto per conto proprio. Però ecco, volendo, insomma sappiate che stanotte cambierà l'orario, cambierà e quindi bisognerà mettere la lancetta un'ora indietro, si dormirà un po' di più. Andiamo a vedere però i giornali, perché la situazione come abbiamo visto, ormai ci hanno fatto una testa tanto così, però è bene ricordarlo, la situazione sta purtroppo tornando a impensierire non poco. Parliamo chiaramente del Covid. Il giornale questa mattina, il Corriere Adriatico, chiede e lo fa con un'edizione simile in tutte, anzi con una pagina identica in tutte le quattro edizioni della Regione, con questa grande fotografia, chiudere adesso per riaprire prima, questo grande titolo, e di spalla un articolo di Giancarlo Laurenzi. Allora i contagi sono fuori controllo, scrive il Corriere Adriatico, terapie intensive ricoveri in aumento, la curva non ammette repliche, o le marche vanno in lockdown per almeno due settimane, o la sanità presto al collasso. Andiamo a vedere, leggiamo un attimo questo articolo qui di spalla sul Corriere Adriatico. Allora i numeri hanno il teschio, cerchiamo anche di immaginarcelo, insomma i numeri hanno il teschio in mano e non consentono più interpretazioni da zecca garbugli virali. Se la progressione sarà confermata a fine mese, le marche avranno 12 mila contagiati e 400 in più per ogni giorno che passa. I charlatani di passaggio, che avevano certificato l'inutilità del Covid Hospital di Civitanova, chiedano scusa sui ceci a Ceriscioli. Ergo, il tempo è scaduto ed è necessario che il nuovo governatore Acquaroli integri in senso restrittivo l'ordinanza da tiramisù emanata giovedì. Ordinanza da tiramisù che vuol dire, insomma, blanda, che avrà pochi effetti, soprattutto sul contenimento dei contagi. Ma non domani o dopo, oggi, altro che vivere con le scuole aperte e i bus collegati, focolai sparsi per le città come funghi nei boschi d'autunno. Chiudere adesso significa riaprire prima e salvare economia e istruzione insieme, perché una ferita si può curare, la cancrena porta all'amputazione. L'ideale, suggerisce Laurenzi sul Corriere, due o tre settimane di coprifuoco vero, trasporti compresi, farmacie e alimentari esclusi. A commercianti, gestori di palestre, ristoranti, bar parrucchieri vari ed eventuali, si spieghi la procedura con la forza dei numeri e dei soldi. Si stornerà dal recovery fund, dai soldi che dovranno arrivare dall'Europa, un tesoretto di euro per ripianare poi le perdite e gli investimenti sostenuti per adeguarsi ai protocolli di fine primavera. I marchigiani sono gente pratica e colta, vengono da battaglie e tragedie secolari che hanno fatto e riscritto l'Italia, da Castelfilando e terremoti, capirebbero i marchigiani al volo e il senso più delle varie conf. Meglio in trincea dunque per due o tre settimane, ma con la luce in fondo al tunnel che l'agonia dell'estrazione del lotto serale con i numeri dei caduti sul campo. E le aziende e il lavoro e gli stipendi? Ci sono imprese globalizzate o illuminate che hanno adottato standard di sicurezza da 110 e lode. Lavoratori con tute, mascherine, sanificazione ogni mezz'ora, altre invece tengono 15 operai negli stanzioni, uno attaccato all'altro. Se non si vuole fare di tutt'erba un fascio, Acquaroli opti per l'ordinanza Slalom, che lasci carta bianca ai virtuosi, certificati da Ispezioni Quotidiane, e pugnali senza pietà. Chi sgarra? Poi continua, ovviamente, anche se l'abbiamo letto quasi tutto, ma comunque è il pensiero del Corriere Adriatico, è della linea di rigore, di estremo rigore, che cerca di lanciare questa mattina, con questa prima pagina, assolutamente anche d'effetto, che proprio vuol arrivare al nodo, cercando di spingere il governatore Acquaroli a essere più deciso e quindi di usare il pugno duro. Influenza, il vaccino si fa in sagrestia, questo invece è il titolo d'apertura della pagina di Pesero del Carlino. Mancano gli spazi per il distanziamento, dunque i medici chiedono ospitalità alla parrocchia di Pesero di Loreto. Nel vortice del virus, la fotonotizia, Marche Contagi Record, ricoveri triplicati in dieci giorni. E poi, didattica a distanza, la scuola non deve essere fanadino di coda, continuano le proteste, soprattutto degli studenti, che non vogliono sapere di stare a casa e di fare scuola a distanza, ma vogliono essere lì, in presenza. Poi sulla struttura di Civitanova, Covid Hospital serve personale, ma dunque la riapertura slitta ancora di qualche giorno. A Urbino, giovedì universitario, controlli della polizia, scattano le multe, affano quattro denunce per la truffa del Bancomat. Chiede prestito, ma i documenti sono falsi, arrestato un agente di commercio e poi Alberini, una pasticceria storica di Pesero, che festeggia un secolo passato a sfornare delizie. Taglio basso, sempre dalla prima del Carlino, accordo fatto per il parcheggio, il Comune di Pesero lo comprerà dai privati, scongiurata la battaglia giudiziaria. Basket, ora si riapre la partita per la capienza. Lettera a Spadafora, Ministro dello Sport, la VL torna a sperare di avere più tifosi. L'indice R con T, l'RT, chiamatelo come volete, insomma, è ormai abbondantemente sopra l'1 in tutte le regioni italiane, eccetto la Campania. Se andiamo a vedere a colpo d'occhio il quadro pubblicato sul Corriere di questa mattina, qui ci sono le Marche, siamo a 1,47, l'unica regione, vedete, sotto 1 è la Basilicata che è a 0,95. Per il resto abbiamo indice di contagiosità molto elevato, guardate per esempio in Val d'Aosta, la piccola Val d'Aosta, 2,37, che è l'indice più alto in assoluto. Il titolo Marche sale l'indice RT, l'Istituto Superiore di Sanità dice necessario limitare i contatti fra le persone, ma questo lo diciamo da quando era 0 e qualche cosa, 0,90. Aumentano drasticamente i positivi, ieri erano 453 su 2.224 tamponi, è chiaro che rispetto ai mille più o meno ordinari delle settimane scorse è aumentato anche il numero dei tamponi, chiaramente rispetto alle volte precedenti. Il rischio è che entro una settimana però si arrivi a 12.000 contagi in regione. Intanto all'ospedale di Fermo è deceduta una donna di 91 anni che però aveva patologie pregresse, sempre più gli infettati in ambiente domestico, 22 pazienti sono in questo momento ricoverati in rianimazione. Contagi boom è il titolo del Carlino, Marche nella morsa del Covid, in 10 giorni i ricoveri sono triplicati, ieri nuovi positivi a quota 453 con il record di tamponi, il pesarese regge. In effetti noi siamo ancora la provincia che ha il minor numero di contagiati, quindi continuiamo o perché siamo più bravi, non lo so, siamo più attenti, oppure perché effettivamente abbiamo già dato nella prima ondata e di conseguenza magari siamo più immunizzati. Insomma, sono 22 comunque i pazienti nei reparti di terapia intensiva, slitta come abbiamo visto e si ripropone il nodo del personale per quanto riguarda il Covid Hospital, l'allarme lanciato, ma questo lo devono fare per mestiere i sindacati. Da noi, da noi inteso come provincia di Pesurbino, 42 sono i casi registrati contro i 111 nell'Ascolano e i 92 ad Ancona. Vedete come è molto più basso da noi il numero dei contagi. Intanto, buone notizie arrivano dalla bassa Marche perché c'è Francesco Merloni che batte il virus e a 95 anni l'ex ministro è finalmente uscito dall'incumo nel quale era piombato la scorsa estate durante il suo soggiorno in Sardegna. Bocche cucite in famiglia, ma chiaramente la soddisfazione è enorme. E dunque Francesco Merloni è negativo al secondo tampone. Il Vescovo si rallegra, ma Sara dice, apprendo la notizia con grande gioia, mentre l'ex sindaco Sorci, bella notizia, lasciamolo tranquillo. E a proposito di Vescovo, c'è quello di Sedigaglia, Manenti, che è in quarantena, si è messo in isolamento perché ha avuto contatti con una persona risultata positiva. Lui dice di stare bene, il tampone è comunque negativo. L'ospedale alza lo scudo anti-Covid. A Senigaglia disponibile un reparto d'emergenza. Invece, in lacrime per il preside con la politica nel cuore, addio a Senigaglia a Tullio Piersantelli, di 81 anni, oggi funerali, la passione per la storia cittadina dopo la pensione. E adesso l'intervista invece che Andrea Taffi ha realizzato con Luca Ceriscioli. Dedica a chi criticava Civitanova? Ma no, facevano ridere già allora. Questo è il titolo virgolettato, sono parole dell'ex governatore delle Marche, che dice, a proposito di Acquaroli, se mi telefonasse gli darei una mano, ma non lo saprebbe nessuno. Beh, insomma, che effetto fa? Gli chiede Taffi al telefono guardare lo tsunami Covid da fuori. E Ceriscioli risponde, mi sento più leggero, non lo nego, ma la situazione non è leggera per niente, anzi direi proprio che è pesante e ci sono numeri importanti. Lei chiuderebbe tutto? Risponde Ceriscioli. Sto con Conte, il Premier. Non siamo nelle stesse condizioni di marzo, però le dico una cosa. Sono stato a fare la spesa, racconta Ceriscioli, ieri. Ho visto un rigore impressionante, mascherine sopra il naso, tutti attenti a non ammucchiarsi, cose che contano. Un buon segnale, insomma. A marzo giravano invece tutti senza mascherina. E questo fa la differenza. E probabilmente anche questo incide sul numero più basso, probabilmente rispetto alle altre province. Se domani mattina chiamasse il nuovo governatore Acquaroli, le chiedesse una mano, che cosa farebbe? Risponde Ceriscioli. Beh, insomma, rispondere è presente, ma con riservatezza. Qui tutti dobbiamo collaborare, ma se mi chiamasse, ma se chiamasse, se mi chiamasse, voi, cioè voi giornalisti, da me non sapreste proprio nulla. Sarebbe un servizio, insomma, e non una vetrina. Intanto il cover rallenta pure i trasporti. Trenitalia, niente prenotazioni per Natale. Sul Corriere di oggi, pendolare impossibile, dicono trovare un convoglio dal 13 dicembre in avanti. Deve cambiare l'orario. L'aggiornamento arriverà solo il prossimo mese. Trasporti scolastici, invece, capienza al 60%. Adria bus a ritare il numero dei mezzi. Una settimana per riorganizzare il servizio, da considerare la variante della didattica a distanza. Dovremmo adeguare la cartellonistica, dove indicare il numero dei posti totali e di questi quanti potranno essere poi effettivamente occupati. Intanto ci sono polemiche relativamente alle squadre cosiddette USCA, cioè quelle squadre che svolgono visite domiciliari anche in questa fase epidemica. E molti si accaniscono, le aggrediscono, sia pubblicamente, attraverso i social e quant'altro. E a questo proposito risponde il dottor Fabrizio Valeri, che in qualche modo dice si stanno moltiplicando le persone con i sintomi, quindi potete immaginare che sono in tanti a richiedere questo servizio. Questo accanimento, dice, è del tutto immotivato perché si sta moltiplicando il numero di persone che manifestano sintomi e con essi anche i contatti, quelli stretti, che nell'ambito dell'attività di tracciamento vanno sottoposti al test. Ora, è chiaro che le attività di tracciamento, moltiplicandosi in maniera molto esponenziale, i contagi si vanno a far benedire. È praticamente impossibile per chiunque risalire e dunque ritracciare tutti i contatti. Un esempio, se uno va dal parrucchiere, dovrebbe succedere anche ai ristoranti, ma se uno va dal parrucchiere, il parrucchiere prima di uscire ti chiede di scrivere il nome con il numero di telefono, perché se poi viene fuori un contatto, viene fuori che tra i clienti c'è stato un positivo, allora si prendono tutti quei numeri di telefono e si chiamano e si contattano. Ma capite voi qual è l'effetto? Diventa una cosa impossibile. Un conto se ci sono 4-5 positivi al giorno, bene o male ci si può riuscire, ma con 400 positivi in un giorno, ditemi voi com'è possibile risalire e contattare tutti quanti. Tornando però alla questione delle squadre USCA, allora c'è questo da dire. È perfettamente inutile, dice Valeri, fare richiesta del tampone direttamente all'equip domiciliare, cercando eventuali scorciatoie, perché il percorso stabilito prevede che siano, attenzione, chi? I medici di famiglia e quelli della guardia medica a formalizzarla utilizzando un apposito modulo da inviare online. Quindi lo ribadiamo, ma questo ormai lo sappiamo bene, perché ci siamo già passati, quando uno ha dei sintomi non deve uscire di casa, deve stare a casa, attaccarsi al telefono e chiamare il proprio medico personale o la guardia medica. Vaccino antinfluenzale, mancano gli spazi, raduniamo i pazienti in parrocchia. Il dottor Danilo De Santi, presidente provinciale della Sim, dobbiamo garantire la sicurezza, si va nelle sagrastie della parrocchia di Loreto. Ringrazio Don Giuseppe che ci ha messo a disposizione appunto quell'ambiente. Controlli e multe, lotte a chi sgarra invece ad Urbino, il giro di vite c'è stato, agente del commissariato in azione nella città in versione serale. Gambini dice sciocco, non rispettare le regole, il messaggio del primo cittadino, primo cittadino che lo ricordo sarà qui nei nostri studi lunedì sera in diretta per rispondere alle telefonate dei nostri telespettatori che ci seguono da Urbino. sono stato in centro, dice Gambini, fino a mezzanotte e mezza per valutare le dinamiche. Parliamo di digestore, perché legambiente che nell'immaginario collettivo teoricamente si pensi sia contraria ad un impianto del genere, in realtà è favorevole. Questo emerge nell'articolo di questa mattina pubblicato dal Carlino. Impianti consolidati, dicono quelli del legambiente, e sicuri. Andrea Minutolo, responsabile scientifico dell'associazione, dice per andare verso rifiuti zero la strada è questa, i cattivi odori, l'impatto è praticamente inesistente. Oggi intanto c'è un'assemblea a Talacchio. Non so, io non ho avuto tempo purtroppo di leggere tutto l'articolo, quindi non so esattamente se si parla in questo momento, in questo articolo dei trasporti, cioè di chi poi deve portare con i camion tutta questa roba nel biodigestore, che sarà anche profumato, ma insomma poi qualcuno dovrà portarci questi, tra virgolette, rifiuti. Soluzione del tutto sostenibile per gestire i rifiuti organici differenziati. Quindi ecco, non so poi come risponde eventualmente su questa questione. La pagina di Fanno, ma i presidi non dividono le classi a metà. Questo è il titolo. Norme anti-Covid, superiori sotto pressione per rispettare il limite del 50% degli studenti in presenza. Una settimana in classe e una a casa. Dunque le scuole superiori sono sotto pressione per ottemperare, anzi per ottemperare l'ordinanza del neopresidente Acquaroli emessa nella giornata di giovedì, con l'obiettivo di alleggerire la pressione anche sul trasporto pubblico, che come abbiamo visto passerà dall'80%. Questi sono tutti i numeri. Io lo so che a casa qualcuno si metterà a ridere, ma cosa sta dicendo? Ma sono tutti ammassati come sardine, l'80% non esiste. In effetti è anche vero questo, ma comunque la carta bollata serve e servirà sempre, purtroppo, anche se poi nei fatti la realtà è completamente diversa. Quindi l'intenzione è quella di passare dall'80 al 60, quindi con meno studenti e da questa mattina scatta la didattica a distanza per il 50% degli studenti del triennio di tutti gli istituti superiori fanesi, quindi il Nolfi, il Torelli e il Polo 3. Però qualcuno, come abbiamo detto, protesta, dovrebbe essere il trasporto pubblico a servizio della scuola e non il contrario. Cioè andrebbero messi più, chiaramente, più mezzi in circolazione. Giombi dice una decisione condivisa con il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto. Andiamo invece adesso sulla pagina di fanno del Corriere Adriatico. Falsi disabili truffano venditori online. Decine di segnalazioni e quattro denunciati. Scovati dalla polizia, le vittime hanno preso somme di denaro che variavano da 400 a oltre 3.000 euro. A passeggio lungo il Canale Albani, invece, piccola escursione per incontrare gli anatroccoli appena nati, il cigno Ugo e la sua giovane compagna Rubi. E poi si chiama L'anzianotto, è un giornale, un giornale dedicato alla terza età e ora i club anziani di Fano hanno anche loro una voce e quindi bisognerà inforcare gli occhiali e mettersi a leggere. La lettura è sempre una buona cosa. Allora, quattro denunce spopola la truffa del banco, ma a titolo del Carlino di Fano, l'accredito dell'incasso di un bene venduto online si trasforma in addebito. Vittime una decina di persone tra Fano e la Valle del Metauro. Sono due gli strumenti con cui avviene l'inganno, poi serve l'erogatore dei soldi. Sotto l'anzianotto, anche qui, prime 100 coppie, vite, vissute e tante nuove storie. Saulo Berluti dice, siamo partiti dall'esperienza old but gold, vogliamo che la memoria non si cancelli. E poi sulla pagina di Fano del Corriere, invece, guardate questa fotografia, è un pitone che è stato catturato dai vigili del fuoco nei giardini pubblici. Si indaga per capire se è scappato da un'abitazione o se si è stato in qualche modo abbandonato. È un pitone lungo oltre un metro, neanche piccolino, nei giardini in via Bianchini a San Lazzaro a Fano. Se ne stava acciambellato nella sua tipica postura, i vigili del fuoco in servizio a Fano sono riusciti a catturarlo con le dovute cautele. Poi ancora, tecnologie all'avanguardia per il lungomare di Sassonia. Siamo sempre a Fano. È un nervo scoperto, sì, in effetti, quello del lungomare di Sassonia che mostra i segni di tutti i suoi quasi 40 anni e che per una seconda giovinezza dovrà attendere il varo di Waterfront, si chiama così il nuovo piano di riqualificazione di tutto l'intero lungomare. Si prevedono però tempi lunghi e nel frattempo occorrerebbe evitare di ripresentare l'estate prossima una passeggiata un po' disastrata. In effetti sono stato l'altro giorno, i segni ci sono tutti, caro mio vecchiaia, lì c'è di tutto. Insomma, e quindi adesso c'è una sperimentazione autorizzata dai lavori pubblici e affidata all'impresa Monbaroccese Belli di una tecnica di intervento che in caso di successo consentirebbe di rifare il trucco, soprattutto al camminamento, senza sottrarre troppe risorse poi al rifacimento vero e proprio. Quindi diciamo una truccatina, via, prima di andare a rifarsi tutto il lifting. Quei pallini mi hanno bucato la felpa, il titolo sempre sul Corriere, dalla pagina di Pesaro ancora si parla di quel brutto episodio che è avvenuto durante la visita del FAI di alcune persone, c'erano i cacciatori che stavano sparando, stavano facendo attività venatoria e uno racconta, quei pallini mi hanno bucato la felpa, poteva essere una tragedia per tutti. Parla un 38enne che appunto è stato colpito dai cacciatori durante questa visita e adesso si valuta l'interrogazione parlamentare. Mentre il dipendente rubava parti di poltrone per il mercato nero, il 45enne denunciato dopo i sospetti del suo titolare, ritrovata in spiaggia all'altezza dell'ex Villa Marina, una cassaforte sventrata invece dai ladri, BMW sparita e recuperata a Bologna grazie al GPS, trafugato anche un furgone in una autofficina. Parcheggio invece dei pendolari, il Comune di Pesaro lo compra, pace fatta con la società Porta Cappuccina per l'area di sosta dietro la stazione, stanziati 628 mila euro destinati all'acquisto. A Senigallia invece il parcheggiatore abusivo reagisce ed è stato e viene arrestato, un senegalese di 55 anni ha fatto cadere un carabiniere che voleva impedire l'attività di fastidio ai passanti, il militare è stato curato per le ferite subite, mentre qui di fianco vedete il Vescovo Manenti in quarantena, in contatto con un positivo è nella sua abitazione, ma senza alcuna sintomatologia. Sempre a Senigallia dal Corriere, sindaco e assessori si taglia, niente cellulare e aziendale, il sindaco Livetti dice non serve, luminari e natalizie invece saranno soft, agevolazioni sulla sosta. Il Presidente del Consiglio è già invece operativo nel suo ufficio, è massimo bello, mentre i disabili possono andare in comune con l'auto, modifica l'ordinanza per concedere la facoltà di sostare in via Mastai. L'altra pagina da Urbino e provincia, dal Carlino, guardate questa fotografia dove c'è anche volto noto della televisione, la giornalista Cristina Parodi, quelle mille miglia di speranza e spettacolo, il titolo, un'esplosione di colori, suoni e tradizioni che ha ravvivato e rallegrato il centro, e non solo di Urbino, in un periodo tutt'altro che facile. Queste sono le fotografie, guardate che belle, di queste moto, scusate queste auto d'epoca, le vecchie signore, che però anche loro sono dute, insomma erano alle prese anche con le condizioni meteo. Poi c'è una notizia che pubblica il Corriere sulla pagina, diciamo, di Vallefoglia, da mezzo secolo è ancora risolto il mistero delle campane fantasma. Suonarono per giorni pur rimanendo immobili. Il primo novembre potrebbe suonare la quarta. Mezzo secolo fa, la sera del primo novembre del 1970, a Carpegna, una campana della chiesa di San Nicolò Vescovo, seppur del tutto immobile, si mise a suonare. E c'è tutta questa storia che io chiaramente leggerò più tardi, non conoscevo questa storia, questa cosa che scrive questa mattina Veronica Angeletti sul Corriere Adriatico. I frati trovano l'altare pronto per la messa con le letture del giorno. L'evento si ripetè fino alla fine del 1971, ma coinvolse solo tre delle quattro Martinelle. Ok, allora c'è tutto l'articolo che c'è sul Corriere Adriatico di questa mattina. Sempre dal Corriere Urbino riapre la strada Pallino-Schieti, è solo un gigantesco rattoppo, Gambini accuse predecessori, sinistra per Urbino, contesta la tempistica. Sotto nasce il primo laboratorio di editoria d'arte, oggi e domani sarà possibile visitarlo. Dalla Val Metauro invece fanno terreni comunali in gestione a dieci imprenditori agricoli, canone calmierato per nove anni, premiati progetti biologici e il non utilizzo di OGM. Sotto invece il corso di Fossombrone, percorso ad ostacoli. L'osservatorio cittadino torna alla carica, pericoli per i pedoni e gli automobilisti. Andiamo sulla pagina velocemente dello sport. Eccolo qua, la Vis è con Galderisi, ma vuole pensare soltanto al Perugia. Il Fano ora tocca il riscatto, Carpani e Cesena abbiamo fatto una figuraccia, ma adesso dobbiamo metterla alle spalle. La VL con le retrocessioni serve un altro lungo, Repegia presenta la sfida Roma-VL parla della situazione incerta di questi tempi critici. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Buon fine settimana a tutti, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.